Benvenuti in questo nuovissimo format che la mia mente incredibilmente fantasiosa ha chiamato in un minuto. Come avrete potuto notare ultimamente sto cercando di creare nuovi format che naturalmente tirano sempre verso il nerd ma che comunque si distaccano un po' dai soliti video che faccio, ovvero le 100 curiosità pazzesche, definizioni di 30 cose e whatsapp doc. Quindi con questo nuovo format diciamo che porterò avanti queste 4 tipologie di video per adesso. In questa serie di video cercherò di raccontare andando a toccare i punti focali di una determinata trama, possa essere questa di un cartone animato, di un film o di una serie tv, in un minuto soltanto. Secondo più, secondo meno eh. In un certo senso ogni volta sfiderò a me stesso, sarà una vera e propria corsa contro il tempo. Ripeto, i punti focali di una trama, non la trama intera, mi sembra ovvio. Ho deciso di cominciare da Dragon Ball che ho sempre amato alla follia, ovviamente fino allo Z ed escludendo il GT che non fa parte del manga. I nomi che userò comunque per comodità saranno quelli dell'anime. Credo sia tutto, cominciamo. Goku, Bulma e gli altri vanno alla ricerca delle 7 sfere del drago che può realizzare qualsiasi, ripeto, qualsiasi desiderio. Il primo desiderio espresso sono un paio di mutandine. Bene. Goku si allena dal genio delle tartarughe di mare con Krilin. Partecipano al torneo di arti marziali. Goku perde. Goku si imbatte nell'esercito del fiocco rosso. Fa una strage. Al nuovo torneo arrivano gli inutilissimi Tensinger If. Goku perde. Di nuovo. Incombe al Satan che prima di venire sconfitto da Goku spelle un uovo, da cui nascerà Junior, che a sua volta verrà sconfitto da un Goku cresciuto improvvisamente al torneo di arti marziali. Dallo spazio arriva Radish, il fratello di Goku. Goku, ahimè, muore ma torna in tempo per sconfiggere Vegeta che però scappa su una mech. Compare Freezer che viene sconfitto da Goku, trasformato in Super Saiyan. Ne nasce uno ogni mille anni. Wow, poco dopo lo diventeranno anche Vegeta, Gohan, Goten e Trunks. Ok. Tornati sulla Terra, la nuova minaccia è un cyborg. Cell. Cell è più potente di Freezer. Facciamo finta di crederci. Gohan sconfigge Cell. Arriva il cicciottelloso Majin Buu e dopo che tutti si sono fusi con tutti, viene sconfitto da Goku. E mentre tutto questo accade, Krillie muore, Krillie muore, Krillie muore, Krillie muore. Fine. Il video è finito, spero vi sia piaciuto. Fatevelo sapere con un mi piace e non dimenticatevi di condividerlo. Fatemi sapere anche qui sotto nei commenti quale prossimo in un minuto vorreste vedere. Vi ricordo anche che mi trovate su Facebook, su Twitter e su Instagram. I link sono in descrizione. A presto!